Come stai? Come state innanzitutto voi due, nel senso se ci sono dei rapporti? Sì, 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 no, molto bene, devo dire che è sempre un dolore che ti rimane dentro, nascosto da qualche parte, perché non l'ho vissuta bene, non l'ho mai nascosta questa cosa, per me è stato un colpo così, che non ho saputo forse gestire al meglio lì lì, l'ho presa male, però poi col tempo riesci a capire tante cose, rifletti e ci sta che alla fine due persone prendano due strade diverse, però l'importante è poi avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e devo dire che sta funzionando, non viviamo vicini, quindi questo adesso è un pochino più complicato perché c'è un po' di distanza, lui gioca a Berlino, io vivo a Milano con Maddox, però devo dirti la verità, stiamo cercando di essere abbiamo cercato sin dall'inizio di essere due persone molto intelligenti e di andare avanti con la nostra vita. Hai detto che l'hai presa male, ma perché non te l'aspettavi o perché avevi fatto di tutto affinché le cose andassero? Non me l'aspettavo, non è stata una scelta mia sino in fondo, quindi lo dico onestamente, non me l'aspettavo, però ho cercato di fare tutto quello che dal mio lato si potesse fare e poi è andata così e va bene lo stesso. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.